Un sistema di videosorveglianza attivo H24, programmato per registrare le immagini a flusso continuo, è stato appena installato sul lungomare nord di Pescara, zona presa di mira stando alle pagine di cronaca e agli ultimi eventi denunciati dal gestore dell'IDO Lenaia di Gabriele Straccini, che ha raccontato, come riporta il quotidiano Il Centro, di porte distrutte e di vasi danneggiati. Proprio al confine con Montesilvano, vicino al Tortuga, noto locale della Movida Pescarese, distrutto da un incendio nel 2021 e diventato luogo di bravate, il nuovo dispositivo in fase di collaudo entrerà in funzione nei prossimi giorni. Ricordiamo che sono impianti tecnologicamente avanzatissimi che consentono non soltanto di registrare le immagini delle macchine o persone che passano sotto, ma soprattutto ci hanno anche il risconto della lettura targhe. Quindi noi abbiamo sulle tre direttrici, Montesilvano e Pescara, abbiamo la possibilità in questo contesto di sapere tutte le macchine che entrano ed escono su Pescara in misura istantanea. Infatti ricordiamo pure che questi impianti sono immediatamente collegati con la control room di via del circuito e quindi consentono di accedere alle telecamere e alle immagini nel stesso istante in cui si può verificare un evento. Diciamo che questi assumono un ruolo fondamentale, come abbiamo anche più volte detto, non soltanto come una funzione di deterrenza, ma anche una funzione di indagine post-evento, un'indagine che può essere sia di natura giudiziaria oppure, come dicevi te, anche all'interno di atti vandalici in questo senso. Quindi sono un ausilio importante per le forze della Polizia perché consente di monitorare in maniera costante e soprattutto dettagliata anche il nostro territorio cittadino. Sono in corso le installazioni di altri due impianti dello stesso tipo a Santa Filomena e in via Caravaggio. Pescara può contare su un sistema di controllo di circa 250 videocamere. Anche Montesilvano sta recuperando il gap. Sono in arrivo fondi per circa 250 mila euro provenienti dal Ministero dell'Interno, che saranno utilizzati, fa sapere il comandante della Polizia Locale, Nicolino Casale, per l'acquisto di 99 videocamere. Tra i punti nevralgici in cui verranno installati i dispositivi, il lungomare, via Verrotti e via Vestina.